che dobbiamo affrontare. Prima ho sentito Speroni che ci diceva la crisi finanziaria e adesso è arrivata anche la crisi dell'euro. Dicevano che ci avrebbero dato crescita e stabilità. La crescita non si è vista e adesso anche l'euro e l'Europa rischiano di andare a carte 48. Noi per fortuna ci abbiamo vicino alla Svizzera e quindi anche è franco quindi insomma siamo anche un po' meno.